Il bilancio è di soli 5 feriti lievi e un bimbo di 8 anni illeso, ma poteva davvero trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6 nelle vicinanze della rampa di uscita del casello dell'autostrada A14 Bari Sud in direzione Taranto. Un autobus con a bordo circa 60 passeggeri diretto verso un paese dalla provincia di Crotone si è ribaltato finendo contro una cuspide del guardrail. Le cause dell'impatto per ora sono difficili da individuare. L'autista, un 24enne, ora è sotto shock. Secondo quanto accertato il mezzo della ditta Fantini, era partito ieri sera alle 20.30 da Reggio Emilia ed era diretto in Calabria. Dai primi rilievi della polizia stradale è emerso che dopo il violento impatto il pullman ha proseguito la corsa fuori careggiata e poi si è ribaltato. Sul posto sono intervenute 5 pattuglie della polizia stradale che hanno fatto rimuovere il mezzo disponendo lo scambio di careggiata per il transito degli automobilisti. I feriti sono stati trasportati in ospedale per precauzione, tuttavia le loro condizioni non sono gravi. Ad aiutarli ad uscire dal mezzo sono state due squadre dei vigili del fuoco. Indagini sono state avviate per accertare le cause dell'impatto.